Buongiorno, noi siamo ragazzi di Vimania Io sono Katie Io sono Kendall Ciao ragazzi, vi lasciamo il video Che bella giornata Vorrei proprio farmi un tuffo Su mi alzo Ok, adesso mi sono seduta Ehm, sarà meglio chiamare quel che Ken Ken sta ancora dormendo Ora adesso vado a chiamarlo Adesso mi sono alzata Andare a chiamare Ken 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 ti puoi alzare In gran forma Andare a fare la spesa Certo, andò subito Speravo che se lo dimenticasse Ciao Shaki Ciao Ken Ma cosa devo comprare? Tonno, pasta, salsa, olio e una cassa d'acqua Ma l'acqua la possiamo prendere dal mare Oh my god E ciao allora Ciao Ken So tu dove vai Farmi un tuffo Ok, ciao Tieni la porta Stupido Tieni la porta Oh Chi sei tu? Ecco finalmente nella mia nuova casa Cosa? Frena bella Questa non è la tua nuova casa Non è la 114 È la 112 Scusa, negli ultimi tempi sono un po' sbagata Penso che mi farete rimanere a pranzo Mi farete rimanere a pranzo Quindi Mi farete rimanere a pranzo